Martedì, 21 novembre 2017, 0001 Cecilia Rodriguez è stata eliminata nella undicesima puntata del Grande Fratello Vip. La settimana scorsa ad uscire dalla casa di Cinecittà era stato il fratello Jeremy a sé. È avvenuto lunedì 20 novembre e la sorella di Belenne ha subito approfittato per fare una sorta di show personale appena è entrata nello studio da dove va in onda in reality ed ha incontrato Hilary Blasi. Come al solito la conduttrice ha mandato in onda alcune immagini del percorso della Rodriguez all'interno della casa di Cinecittà. In particolare i telespettatori hanno riascoltato e rivisto un discussione tra lei e Cristiano Malgioglio. L'argomento era il rapporto della Rodriguez Junior con l'ex fidanzato Francesco. Io sono consapevole che Francesco mi ha cambiato la vita e che per quattro anni ha smesso lui di vivere per fare in modo che vivessi io. E di questo gli sono sempre grata, ma lui ha un difetto e è perfetto. Questo diceva Cecilia Malgioglio. La Rodriguez ha continuato sempre parlando con Malgioglio io non penso di avere sbagliato ma nella vita non si sa mai, naturalmente sono sempre stata convinta di questa scelta. Tutto questo lo ha ripetuto in studio alla conduttrice Hilary Blasi ribadendo che non avrebbe fatto tanto casino se non fosse stata convinta del legame con Ignazio Moser. E, alla domanda della Blasi se ama ancora il suo ex uomo ha risposto non lo amo più, non potrei tornare indietro, ma l'argomento più malizioso e voyeristico su cui si è puntata l'attenzione sia dei conduttori che del pubblico è stato quanto era accaduto nell'armadio alcuni giorni fa, tra Cecilia e Ignazio Moser. Sul web c'era stata una vera e propria rivolta perché nell'armadio era entrata Cecilia Rodriguez seguita subito dopo da Ignazio Moser. Tra i due sembrava che si fosse consumato un rapporto che ha scatenato la furia del popolo della rete. Con una finta ingenuità ed una sfrontatezza veramente incredibile, Cecilia Rodriguez alla Blasi ha raccontato che all'interno dell'armadio c'era stato tra lei e Ignazio soltanto un bacio, al massimo un abbraccio. E quando è stato chiesto a Cecilia se il rapporto d'amore fosse stato consumato, ancora una volta, maliziosamente bugiarda, Cecilia Rodriguez ha risposto di no, quando tutto quello che è accaduto tra lei e Ignazio Moser è stato ed è sotto gli occhi di tutti i telespettatori. Con altrettanta sfrontatezza foriera di grandi ascolti Ilari Blasi ha mostrato il video integrale e quello invece che ritraeva soltanto una parte della famosa persistenza dei due fidanzati nel famoso armadio. Insomma ancora una volta si è toccata la vetta più alta del trash e di un voyerismo a sfondo sessuale che ha tenuto banco per tutta la durata del del reality. Per completare il quadro della Happy Family, ecco che è arrivata nella casa anche la madre di Cecilia e di Belen, Lady Rodriguez si è complimentata con la figlia per il percorso realizzato all'interno del reality. Una frase che non può non destare ilarità, soprattutto se si considera quale è davvero stato il percorso di Cecilia all'interno della casa o meglio sotto le coperte dell'appartamento più spiato d'Italia, 20 anni, appassionata dei programmi di Maria De Filippi e molto attenta alle tendenze della cronaca rosa, nazionale ed internazionale, frequenta l'università. Grazie 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 Grazie